Il tour dedicato agli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiore, Sara Save Factor, in collaborazione con AC Sport, è sbarcato anche a Vibo Valenza, presso la scuola di polizia, dove un team di piloti professionisti con a capo Andrea Montermini, ex pilota di Formula 1 da sempre vicino al marchio Ferrari, ha parlato ai ragazzi dell'ultimo anno delle superiori, quelli che hanno appena preso la patente oppure si accingono a conseguirla, di sicurezza stradale e di guida sicura, permettendo ad una cinquantina di loro di passare anche dalla teoria alla pratica. Il progetto Sara Save Factor ci aiuta a capire che in strada e in pista vincono le regole, ma voi in pista potete andare sempre al massimo senza problemi, in realtà non è così, abbiamo un sacco di regole e bisogna rispettarle. E la seconda cosa diventa quella dell'attenzione, quando si guida si guida, punto. Cosa suggerisce ai ragazzi? La regola numero uno è mani sul volante, testa dritta e guardare sempre avanti e concentrati, sapere il più possibile quello che si fa e quello che si guida, e questo è quello che cerchiamo di passare come messaggio ai ragazzi, le regole vanno rispettate, ma soprattutto bisogna anche cercare di comprendere cosa ci può succedere, per cui cerchiamo di farlo nel modo più possibile e bello per fargli capire che ci sono anche delle problematiche che possono succedere, che non ti arriva un messaggino che dice che un bambino attraversa la strada o la palla del bambino attraversa la strada, succede, per cui tu devi sapere come reagire. Quanto conta il fattore umano e il fattore veicolo? Diciamo che il 95% è il fattore umano e il 5% è il veicolo. L'iniziativa ha avuto anche il patrocinio della polizia, in particolare quella stradale, che ha il compito di far rispettare le regole per rendere più sicure le strade. Regole che ci sono e che vanno rispettate, vanno rispettate per se stessi, per la sicurezza propria, per la sicurezza degli altri. Le leggi possono essere migliorate sicuramente, ma devono essere applicate. E tocca a noi, tocca a noi forze di polizia, fare in modo che vengano rispettate, ma anche e soprattutto organizzare e creare questi momenti di prevenzione, perché la prevenzione è fondamentale, unitamente alla repressione. Alcuni dati riferiti all'anno scorso, effettuati da altre forze dell'ordine, riferiscono che i reati inerenti alla guida, non so, in stato di ebrezza, o comunque sotto effetti di droga o il superamento dei limiti di velocità, in provincia di Vibo Valencia sono calati. Anche voi avete notato questo trend? Allora, devo dire che con la legge 41, la legge 41 del 2016, parliamo della legge sull'omicidio stradale e sulle lesioni stradali, ha sicuramente avuto un impatto di prevenzione, di prevenzione generale. Diciamo che i controlli, i controlli aiutano, i controlli su strade, e il sabato sera, la domenica, aiutano ovviamente a prevenire gli incidenti dovuta all'alterazione alla guida. È cambiata la mentalità. Ora i ragazzi si organizzano, guida chi non ha bevuto. Registriamo un trend assolutamente positivo.